Ti aspettavi così di tornare a Pescara? Sì, sì, me lo aspettavo così. Già quando è finito l'anno scorso, volevo andare in vacanza e sapere che tornavo qua. Non avevo l'ora di ricominciare e fare un anno come sto facendo queste prime tre partite. E' questo che dice il campo, facciamo un bel calcio, un bel gioco, però dobbiamo migliorare sulla realizzazione del gol, di fare più le occasioni che siamo davanti alla porta, di fare più gol e di ricevere anche meno gol. Magari è l'inesperienza che abbiamo di giocare un campionato così importante, di sapere che prima magari ti arrivavano cinque volte e facevano un gol, ora arrivano due volte e ti fanno due gol. Questa è una delle grandi differenze che c'è tra Serie A e Serie B. Sbagli una virgola e ti fanno gol. Il mister ha sempre detto che ogni settimana dobbiamo dimostrare per guadagnarci la maglia di titolare. Quindi penso che il mister non guarda i nomi, non guarda quello che è passato in passato, e neanche la partita prima, se no che guarda durante la settimana e fa la formazione. Lui ha detto che io posso giocare più avanti, trequartista, Alberto pure può giocare lì. Quindi è bello quando ci sono tanti giocatori per giocare sul posto, perché vuol dire che cresci durante la settimana, che ti obbliga a dare il massimo in ogni allenamento. e quindi è bello. Grazie. Grazie.